Può una canzone di Poo cambiarti la vita? Qual è stato il bacio più bello della tua vita? Tanti anni fa. Io vorrei soltanto amare. Come fanno tutti? Come fai tu? Va, va, intervisterò i Poo. Credo che i Poo fossero nella loro semplicità perfetti. E il documentario come va? Il documentario va bene. Sono nati grazie alla frequentazione nei locali da ballo. Greta. Oh, che piacere. Cercavi di contattarmi per un documentario sui Poo. Le persone crescono, Greta. Le persone non vivono di musica. Non ci sono segrezi, sono dei piccoli miracoli, alchimie. Tu stasera vieni o... Non vieni, eh? E poi è il mio sogno, non posso e non voglio rinunciarci. Nelle canzoni dei Poo c'è la storia di ognuno di noi. Poo, un attimo ancora. Mercoledì, 15 febbraio, 21 e 25. Rai 1.